Sul recupero del Teatro Romano di Teramo devono poter decidere i teramani. È il simbolo della loro memoria storica, della grandezza della cultura di questa città. L'unica strada possibile è il referendum popolare che imponga alla prossima amministrazione comunale l'istituzione di un forum dei cittadini per giungere ad una decisione condivisa. E' questa l'idea di un nutrito numero di associazioni locali, tra cui Teramo Nostra, che ha costituito un comitato referendario presieduto da Carlo Di Marco, docente di diritto pubblico all'Università di Teramo. Professore, dopo tanti anni che si parla del recupero di questo teatro romano, è possibile che dobbiamo chiedere un referendum ai cittadini? Ma questo è stupefacente. È stupefacente perché che i cittadini possano e debbano avere voce in capitolo nella scelta del recupero di un bene comune dovrebbe essere una cosa talmente de plano, dovrebbe essere una cosa talmente normale per chi conosce almeno i principi fondamentali della Costituzione sui beni comuni, sui beni culturali, che stupisce anche noi che invece dobbiamo ricorrere ad un referendum per imporre un forum cittadino. Non pensate che i cittadini forse non sono tanto competenti? I cittadini non sono stupidi innanzitutto, ma poi fra i cittadini ci sono tantissimi competenti. Ci sono tantissime risorse. Non è più come una volta quando i cittadini erano completamente ignoranti. Oggi invece questa grande risorsa che sono i cittadini deve essere messa in condizione di poter avere un ruolo attivo, partecipativo e di controllo su tutte le scelte dell'amministrazione comunale. Voi che cosa temete in particolare che possa accadere per quanto riguarda il recupero del teatro romano? Che possano prevalere interessi occulti, che possa prevalere la non volontà di una classe politica che è orientata all'autoreferenzialità. Temiamo che il recupero e il restauro di questo bene comune debba soccombere alle logiche partitiche, deleterie e dannose che fino ad oggi questa classe politica ha dimostrato di privilegiare. In particolare cosa? Forse il non abbattimento dei due palazzi? Forse il non abbattimento dei due palazzi. Copertura sì, copertura no, abbattimento meno dei palazzi Adamoli e Salvoni, realizzazione di nuovi posti a sedere a completamento dell'antico anfiteatro. Sarà difficile mettere tutti d'accordo su quale stile adottare per il recupero definitivo dell'antico teatro romano di Teramo. Intanto affinché il referendum popolare sia valido dovranno votare almeno 5.000 cittadini.